Questi sono rambutin, una delizia, è come se un arancio avesse fatto l'amore con una prugna. Li vuoi assaggiare? Visto come l'hai messa? Ok, salve, è un bel rambutin. Oh, mi scusi. Guarda, ma che cos'è? No, 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 voce, voce lo vai pagare i suoi. Questi sanno di piedi sporchi. Sul serio? Te lo giuro. They taste like feet. Oh, never mind. Regalo, brava. Quanti paesi hai visitato? Io ho 46 timbri sul mio passaporto. Io invece ne ho 49 di timbri sul mio passaporto. 49? Sì. Lo sapevo. Sapevi cosa? Lo sapevo. Siamo tutti e due antevasins, mia cara. Che vuol dire? Antevasins è, come si dice, è uno che sta in mezzo, è quello che vive sul confine. Sono quelli che renuncia al conforto della vita di famiglia per cercare l'illumizione. Oh, carina la tua parola. E mi piace come la dici, illumizione. Illumizione. Dai, ci provo. Manca una sillaba, ma mi piace. Wow. È bello, eh? È pura melantine, che significa tempio della prosperità. Stupendo. Già. Allora, prossima etapa del tour, cibo balinese. Ah, bene, muoio di fame. Dove andiamo? Andiamo nel miglior ristorante della città. Naturalmente. Casa mia. Astuto. Ah. Assista. Sì. Durante. Sì. Grazie a tutti.